Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo insieme e analizziamo Sorge il mattino dal giorno di Parini. Prima però vi ricordo di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come i diari di Charlotte. Oggi leggiamo Sorge il mattino, quindi dal verso 33 al verso 90 del mattino di Parini. Però se volete dare un ripasso al giorno di Parini, vi lascio qui il video dedicato. Come abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, il giorno è un poema in De Cassillabi sciolti che è rimasto incompiuto, a cui Parini lavora per circa 40 anni. Il giorno vede una genesi molto elaborata, tant'è che inizialmente Parini voleva pubblicare tre poemetti collegati, quindi il mattino, il mezzogiorno e la sera. Poi però cerca di elaborare un poema organico diviso nel mattino, nel meriggio, che è proprio il posto del mezzogiorno, nel vespro e nella notte. Pubblicherà prima il mattino nel 1763, poi il mezzogiorno, ma nel 1765 rivede tutta la struttura. Quest'opera è importante perché ritrae i vizi della nobiltà. Infatti i due protagonisti sono il procettor d'amabil rito e il giovin signore, un nobile che anziché passare la sua vita in occupazioni alte, sta tutto il tempo a divertirsi e a gozzovigliare in giro. Il giovin signore è quindi un protagonista senza identità, una maschera vuota che rappresenta però questa nobiltà decaduta. La vera invece, il vero protagonista è il procettor d'amabil rito, che vuole insegnare qualcosa a questo scapestrato, con anche la sua sagace ironia. Nel premio l'autore si propone come il procettore d'amabil rito, che vuole insegnare al giovin signore come comportarsi durante la giornata. Infatti il giovin signore frequenta bordelli, sale da gioco, vive la vita oziando e respinge lo studio. Sorge il mattino in compagnia dell'alba, innanzi al sol che di poi grande appare sull'estremo orizzonte, a render lieti gli animali e le piante, i campi e l'onde. Allora il buon villan sorge dal caroletto, cui la fedel sposa e i minori suoi figlioletti intepidir la notte. Poi sul collo recando i sacri arnesi, che prima ritrovar cerere e pale va, col buelento innanzi al campo, e scuote lungo il picciol sentier dai curvi rami il rugidoso humor che, quasi gemma, i nascenti del sol raggi rifrage. Si apre qui il mattino con la descrizione del risveglio, non del risveglio del giovin signore, ma del risveglio di un buon villan, ovvero di un contadino. Sorge il mattino in compagnia dell'alba. Come notate, mattino e alba sono scritti con la lettera maiuscola, perché sono delle personificazioni, così come anche il sole. E quindi sorge il mattino in compagnia della luce, dell'alba, quindi si sveglia proprio il mattino personificato davanti al sole, che poi appare grande, quindi che brilla luminoso all'orizzonte. E cosa fa questo sole? Questo sole aglieta, rende lieti gli animali e le piante e i campi e l'onde. Abbiamo qui una enumerazione per polisindeto con la congiunzione coordinante E. Inoltre troviamo quel le onde. Dunque il sole rende felici gli animali, le piante, i campi e le onde. In questo caso questo onde è una sineddoche, perché intendiamo chiaramente i fiumi, i mari, gli oceani. Allora, il buon villan sorge. Sorge proprio come il sole, come notate. Il buon villano è il contadino, quindi c'è un parallelismo tra il sole che sorge e il buon villano che si sveglia. E si sveglia e abbandona che cosa? Il caro letto, enjambement, spezzatura del verso, cui la sposa fedele e i minori figlioletti intepidir la notte. Quindi il caro letto, comodo letto, che era stato reso tiepido, quindi scaldato, dai suoi piccoli figli. Poi sul collo recando i sacri arnesi, che prima a ritrovare cerere e pale, va. Quindi cosa fa il buon villano, il contadino? Va. E cosa porta sul collo? Porta sul collo, quindi sulle spalle, gli attrezzi che per prime usarono cerere e pale. Va col bue, dunque, davanti al campo e scuote lungo il picciol sentiero dai curvi rami il rugiodoso humor che, quasi gemma, i nascenti del suo raggi rifrange. Quindi che cosa fa? Va nel campo, percorre un piccolo sentiero e scuote dalle piante, dai rami, il rugiodoso humor, quindi le gocce di rugiada, che, quasi gemma, quasi come pietre preziose, specchiano, queste gocce di rugiada, i nascenti raggi del sole. Abbiamo questo quasi gemma, quindi come, una similitudine, e l'anastrofe, i nascenti raggi del sole rifrange. Come vedete, questa è una slide di ricapitolazione per quanto riguarda le figure retoriche di cui abbiamo appena parlato. Anche Sacra Arnesi, non ho detto prima, è una metafora, non sono gli attrezzi. Chi viene contrapposto, dunque, al giovin signore? Il buon villano, il contadino. Quindi, mentre il giovin signore, all'alma, sta andando a dormire, sorge il sole e sorge così anche il buon villano, che però, nonostante la sua povertà, è circondato dagli affetti. Questo contadino porta sulle spalle i Sacri Arnesi, come abbiamo detto, metafora. Perché ha questi attrezzi sacri? Perché questi attrezzi sono i doni di Cerre, la protettrice delle messe e dell'agricoltura, e di Pale, la dea della pastorizia. Si risveglia dunque la città, potremmo dire, e prima abbiamo il buon villano, e adesso sorge un altro lavoratore impegnato, pieno di occupazioni, il fabbro. E l'assonante officina riapre, quindi che riapre la sua assonante officina operosa, e all'opera e torna l'altro di non perfetto, o se di chiave ardua e ferrati ingegni all'inquieto riccolar che assicura, o se d'argento e d'oro incider vuol gioielli e vasi per ornamento a nuove spose o amense. Quindi cosa fa il fabbro? Torna nella sua officina sonante e torna all'opera, cioè torna all'opera. Perché? Perché il giorno prima non aveva completato, aveva lasciato delle opere incompiute, quindi torna alle opere non perfette, incompiute. Per esempio queste opere non perfette, quindi non compiute del giorno precedenti, possono essere una chiave ardua, una chiave quindi complicata, difficile da progettare, oppure serrature di ferro, ferrati ingegni, difficili quindi da falsificare. Per gli scrigni, quindi le arche, cosa fa? Deve lavorare a queste arche che ha lasciate in questi scrigni incompiuti, perché il ricco tormentato ha paura che venga privato dei suoi oggetti, delle sue gioie, sia che voglia decorare con oro e argento gioielli e vasi per ornare le spose oppure le mense. Come vedete qui abbiamo una struttura ricca di iperbati, cioè non si rispetta l'ordine della consueto e in più abbiamo proprio delle vere e proprie versi incastonati gli uni negli altri. Mentre una anastrofe è la suonante officina, apre. Questi versi sono anche ricchi di enjambement come suonante officina, o torna l'altro, vasi per ornamento, quindi è una struttura ricca di enjambement. Il fabbro quindi nella sua suonante officina fabbrica una chiave difficile da falsificare, lavora l'argento e l'oro per impreziosire i gioielli, non fa dei lavori umili, fa dei lavori per i nobili. Ed è qui che arriva il commento, potremmo dire, un po' ironico, cinico anche quasi, del nostro precettor d'amabil rito, che inizia. Ma che tu inorridisci e mostri in capo qual istrice pungente, irti i capelli al suon di mie parole? Quindi, ma che cosa tu? Una invocazione, lui si rivolge al giovin signore, e dice tu, giovin signore, inorridisci al sol pensiero del fabbro e del buon villano che sono andati al lavoro e mostri in capo come un istrice, quindi una similitudine assomiglia a un istrice pungente. Perché? Perché hai i capelli ritti, irti, al suono delle mie parole. Ah, non è questo, signore, il tuo mattino. Tu, col cadente sol, non sedesti a parca mensa. Quindi tu, quando il sole è cadente, cioè va al tramonto, sta tramontando, tu non sei davanti a una cena modesta, umile, e al lume dell'incerto crepuscolo non gisti ieri a corcarti in male agiate piume. E tu non andasti, no? A sdraiarti in male agiate piume, in un letto poco comodo, piume può stare per il cuscino, per il materasso, quindi potrebbe essere un assineddo che... Ma abbiamo anche un alitote, no? Perché male agiate piume, stiamo dicendo in un letto poco comodo, no? Poco agiato. Come è condannato a fare il vulgo vile, quindi questo volgo, no? Questo popolo vile. No, il mattino del giovin signore è ben diverso. Vedete qui in questa slide un riassunto delle figure retoriche che vi ho appena spiegato. Il precettore, quindi, si rivolge al giovin signore e ironizza sulle sue abitudini, perché il suo mattino non è certo simile a quello del fabbro e del contadino che sorgono come il sole. No, lui, appena svegliato, ha i capelli scarmigliati e in disordine, non ha l'aspetto di un nobile e se sentisse queste parole sarebbe sconcertato. Il suo mattino, infatti, è il mattino di un uomo nobile che ha trascorso le sue serate in bagordi e feste. Quindi c'è una forte antitesi tra le abitudini dei nobili e quelle del volgo. Peraltro, il giovin signore non va alla parca mensa, no? Ed è questo proprio il passo che voi troverete l'anno prossimo in Leopardi, nel sabato del villaggio, nella poesia in cui Leopardi ci parla proprio della parca mensa e dello zappatore che fa ritorno alla sua umile dimora. A voi, celeste prole, a voi, concilio di semi dei terreni, altro concesse Giove Benigno. Quindi a voi, figlio di origine divina, a voi che fate parte di quel gruppo di semi dei quasi divini, Giove Benigno, a voi il buon Giove ha concesso ben altro. Vedete qui un'anastrofe. E con altre arti e leggi per nuovo calle a me conviene guidarvi. E quindi io, procettore, mi conviene con altri atti e altre leggi guidarvi per un'altra calle, un'altra via. Tu, in vocazione, rivolto al giovin signore, tra le veglie e le calore scene, il patetico gioco, oltre più assai producesti la notte. Quindi tu hai protratto la notte fino a tardi, tra feste, melodrammi, canore scene. E patetici giochi d'azzardo. E stanco al fine, in aurococchio, quindi in una carrozza dorata, col fragor di calde, precipitose rote, e il calpestio di volanti corsieri, lungi agitasti il queto aeree notturno e le tenebre. Abbiamo qui la sinestesia, cioè l'accostamento di sensazioni legate ai cinque sensi, le rote calde, quindi il tatto, il fragore, cioè il loro rumore, quindi udito, e il calpestio dei volanti corsieri. Volanti corsieri è una metafora, quindi i cavalli veloci. A voi, celeste prole. Quindi il precettore si rivolge non solo al giovin signore, ma a tutta la categoria dei nobili. E lo fa con una sagace ironia. Perché come passa la notte il giovin signore? Partecipa a feste, ascolta melodrammi, gioca d'azzardo, si muove in carrozza. E come dicevamo quindi, e le tenebre con fiaccole superbe intorno a pristi, siccome allora che il siculo terreno, dall'uno all'altro marri in bombarfeo, pluto col carro, a cui splendeano innanzi le tede delle furie anguicrinite. Quindi che cosa fa il giovin signore? Nelle tenebre, eccole addiradate, con delle superbe fiaccole, quindi con queste fiaccole, che sono delle fiaccole potremmo dire splendide, va bene? Intorno a pristi. Così come, cioè come quando, no? Il siculo terreno, quindi la terra di Sicilia, fu fatta rimbombare da Plutone. E a causa di che cosa? Del suo carro, no? Lui la fece rimbombare col suo carro. Innanzi al quale splendevano le tede, cioè le fiaccole, delle furie anguicrinite, quindi con i capelli di serpenti. Il passaggio del giovin signore sul suo cocchio dorato ricorda il rapimento di Proserpina. E qui non ho la favola mitologica di cui vi ho parlato nel video sul giorno. Plutone rapì la figlia di Cerere e la portò con sé nel laverno. Davanti però al carro c'erano le furie, queste furie anguicrinite, no? Perché guardate come sono le loro teste, no? I loro capelli, potremmo dire, fatti di serpi. Vedete qui il rapimento di Proserpina portata da Ade e strappata alla madre. Perché però proprio in Sicilia? Secondo il mito, Proserpina è stata rapita da Plutone mentre stava raccogliendo dei fiori sulle rive del lago di Pergusa a Enna. Così tornasti alla Magione, cioè alla tua dimora. Ma qui vi, eccom ibi, quindi ma li, ma qui, li, a nuovi studi ti attendè alla mensa, cui ricoprì in pruriginosi cibi e li corlieti di francesi colli o di spani o di toschi o l'ungarese bottiglia a cui di verde ed erbacco concedette corona e disse. Quindi lui torna alla Magione alla sua dimora e lì lo attende che cosa? Una mensa, dei nuovi impegni a tavola. Una tavola ricoperta di cibi saporiti, inebrianti, dei colli francesi, di Spagna, di Toscana e anche l'ungarese e quindi il toccaio ungherese a cui bacco concedette una corona di verde edera e disse Siedi delle mense, reina. Quindi Siediti Regina delle mense, che questa è una invocazione e anche un'anastrofe, no? Oh, Siediti Regina, re delle mense. Al fine il sonno, quindi il sonno personificato, ti sprima ciò le morbide coltrici di propria mano dove te accolto, il fido servo calò le seriche cortine. Quindi il sonno in persona addirittura rassettato i morbidi materassi dove dopo che ti fosti coricato, giovin signore, il tuo servo fedele chiuse che cosa? Le cortine seriche, cioè fatte di seta e a te dolcemente. I lumi chiuse, i lumi sono gli occhi, anche questa è una metafora molto tipica della letteratura, il gallo che risuole alprire altrui, quindi il gallo che di solito apre i lumi degli altri a te li ha chiusi perché si è andato a dormire ad un orario improponibile. La regina delle mense è una vera e propria parodia dell'investitura regale, quindi è il dio bacco a conferire la corona di edera alla bottiglia di tocai per sottolinearne la qualità e il pregio. Il giovin signore è la regina delle mense. All'alba dunque si corica il sonno gli esprimaccio al materasso di seta, il servo chiude le tende del baldacchino, il gallo canta, il giovin signore si addormetta. Ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video.